Un'anima, ad effetto sabato, Rolando Ravello! Che presentazione, eh? Che presentazione! E certo, Rolando, benvenuto! Ma infatti, ma questa carriera fatta di tanti ruoli, no? Che poi è appena iniziata 13 anni fa, vogliamo dirlo? Sì, anche di più, guarda, ormai! E infatti, perché infatti noi, qui ti volevamo, noi siamo andati un po' a pescare in giro, no? E abbiamo trovato un percorso particolarmente intenso e abbiamo deciso di raccontarcelo così. Timido, riservato, antivivo, fuori dai luoghi comuni e soprattutto dai ruoli comuni. Identikit di un attore che ai giorni nostri la differenza la cerca e la fa dentro quel suo modo di starsene e farsi cercare altrove. Fuori dai giochi, lontano da quelle spondi abituali che parlano codici incapaci di appartenergli. Profilo che appartiene, per forza e per natura, a Rolando Ravello, 39 anni, romano, che, finiti gli studi al classico Vivona, all'Eur, tra le radici e le piante della sua vita, comincia a coltivare quella per il teatro. Il palcoscenico, i suoi legni, i suoi odori sono le poche cose che sanno renderlo felice. Tanto di più delle versioni di greco e di latino. Lui che ai corridoi della scuola preferisce i foyer dei teatri, ai banchi di classe le quinte di una scena. 17 anni compiuti da poco e per Rolando arriva il primo debutto. Il teatro è quello dei satiri e quei fortunelli, quella piccola battuta che tocca Rolando, la trasformano nel viatico di un esordio che ha le sembianze di un sogno, ma i sensi di una realtà sempre più vede. Iscrizione all'Università di Economia per far felice papà. Rolando, fatti due conti, capisce che l'investimento più redditizio e sicuro per lui è quello sul proprio futuro. Così i testi di Keynes lasciano il posto alle lezioni del maestro Diotaiuti alla scaletta, uno dei più gettonati laboratori teatrali della città. Una palestra dove Rolando allena i muscoli fino allo spinimento e fino a che fatica, sudore e tante porte in faccia non trovino persona e occasione giuste. Quasi una metafora che incrocia e non solo il romanzo di un giovane povero, di Ettore Scola, maestro e secondo padre che aprono a Rolando le porte di un mondo dove alcuni ruoli sembrano starlo ad aspettare. Con Scola, Rolando recita di tutto, spalla a spalla con i più grandi di sempre. Sordi, Gasman, Giannini sono solo alcuni dei primi attori a cui Rolando ruba arte ed espressioni con gli occhi, mestiere che al gossip e agli assegni a 9-0 continua a preferire sacrificio e volontà. Per Rolando, da quell'esperienza è tutto un crescendo, soddisfazioni, riconoscimenti e critiche positive ovunque. In teatro, come al cinema, come alla TV. La sua straordinaria capacità mimica che lo porta a trasformarsi in mille personaggi tanto estremi quanto differenti tra loro ne fa prima un serial killer in Almost Blue, poi un mito del ciclismo nel ricordo di Marco Pantani. Un'interpretazione di grande partecipazione che consegna a Rolando quasi una maglia rosa dello spettacolo, indossata con la cura di un piccolo grande eroe della strada, quella che tocca a tutti dentro il destino di ciascuno, che dopo giorni di scalata, inseguimenti rincorse, ritardi e sprint appassionati, oltre il freddo, oltre il sole, oltre il vento e la neve, sa raggiungere finalmente il traguardo e godersi la vittoria. Obiettivi che Rolando taglia con tutta la sua famiglia, con la piccola Sofia di 10 anni e con Musa e il suo cane sempre al seguito. Loro, più di tutti, a fare il tifo per quell'uomo e quel papà dal cuore tenero e dallo sguardo deciso, al quale quel cammino, ripido, quanto straordinario ed imprevedibile, paura non ha fatto mai. Ma così sembrano vero però. Vero? No. Ci somiglia di tanto. Eh sì, ma non sembro neanche io questo qua. Senti Rolando, volevo chiederti quanto ha contato nella tua vita aver avuto dei sogni ai quali, insomma, hai dovuto un po' correre dietro? Ma in realtà io sono pieno di sogni ancora adesso e mi accompagnano per fortuna, non si spengono. Appena riesco a chiapparne uno, ce n'è un altro che fa capolino e trovo che siano fondamentali, soprattutto facendo il mestiere che faccio, che o è spinto dalla passione o diventa una roba solo per apparire in copertina e quello non interessa, ecco, non mi piace. Certo. Certo, ma noi ci hanno detto che tu da piccolo raccontavi le barzellette in famiglia come avevano fatto adesso tanti bambini. Tra l'altro una zappa, ma veramente una zappa. Una zappa terribile. Io te c'è una cosa che non so fare raccontare le barzellette. E quindi non hai un cavallo di battaglia che adesso vorresti condividere? No, vedi, ti ho fregato, volevi chiedermi una barzelletta? No, non sono capace, sono un disastro totale. Dai, che c'è quella bella, Rolando. Quella del fantasma formaggino. Un trionfo, no, no, guarda. Vi evito un tracollo di audience, evito il racconto della barzelletta. No, no, assolutamente. Senti, Rolando, io volevo chiederti, abbiamo scoperto, insomma, che una tua grande passione è la moto, che tu consideri un po' quasi come una malattia. A te piace tantissimo correre in moto, ma quando eri ragazzo ci racconti un po' che facevi e quando prendevi la moto la usavi anche per andare un po' a rimorchio? No, guarda, in realtà a rimorchio, a rimorchio, io poi ho avuto un lasso di tempo, dai 14 ai 20 anni, devo dire che rimorchiavo tantissimo, dai 19, diciamo, fino ai 28, un disastro. Solibello, Lauro, ci credete? No, ma no. Sì, sì, ci crediamo, sì, sembra strano che abbia rimorchiato dopo. È vero, è vero, ma il motivo molto semplice di quel lasso di tempo, no, ma non ho detto che tra l'altro dopo sono diventato una donna, assolutamente, dopo mi sono sposato, avevo trovato la pace dei sensi fino alla separazione, ma il periodo dai 18 ai 28, che è stato quello della perdita dei capelli, e chi li ha persi lo sa, è un periodo in cui tu non sei niente, sei terra di nessuno, ti aggrappi a quei pochi peli che ti rimangono in testa con minoxi del coso e che poi in realtà non servono a niente. E vivi, ti ricordi? Però sì, perché? Possono sempre tornare, se lo ricordi. Con dei trapianti, forse. La scienza, in questo campo ha dato tanto. No, perché io, per esempio, ho sentito dire che in quei casi, cioè proprio quando siamo proprio alla fine, provato tutto, si può provare con lo zabaione? No, l'unica è il rasoio, lo vedi? No, io sentite dire lo zabaione, guarda, secondo me, l'ho visto in televisione questa cosa, me la fate vedere un attimo? Ce l'abbiamo? Ecco, siamo a regia. Guarda che fa benissimo, è anche molto energia. E fa bene soprattutto ai capelli. Ma dai? Sì, sì, rafforza il cuoio capelluto. Rafforza? Rafforza. E io non ne ho bisogno. Ma neanche io. E te tocca, non! Non, 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 non! Che schifo! Yeah! Che tocca! Che tocca! Grazie! Carconi e Dimoti un povero della Letto bella questa, no questo è il 91 era big la tv dei ragazzi ma questa esperienza, che cosa ti ha lasciato? ma guarda per me è stata comunque bella io ho fatto tre anni di tv per i ragazzi con Renato Emanuela e poi con Carlo Conti e Maria Teresa Ruta e tra l'altro è stato tutto per caso perché io il provino in realtà non l'ho fatto l'hanno fatto Renato Emanuela con cui io avevo un trio e facevo degli sketch comici l'anno prima a Telemonte Carlo poi io ero partito per andare a fare una turnetta facevo l'aiutoregia e loro fecero il provino per la trasmissione e presero il pacchetto presero tutti e tre quindi io mi trovai in questa cosa senza neanche averne titolo devo dire la verità, sono stato preso perché il provino l'avevano fatto loro e poi è andato avanti per tre anni, poi dopo tre anni io sono uscito e mi ha preso Vettore Scola per fare comando di un giovane povero e da lì è partita proprio un'altra carriera però non lo rinnego assolutamente anzi è stata una grande esperienza perché era tutti i giorni in diretta, due ore al giorno tutti i santi giorni della settimana per tre anni, alla fine qualcosa impari ti fa una bella scuola una bella esperienza senti Rolando io vorrei tornare un attimino alla tua passione alla tua passione per le moto io so che quando tu guidi la tua moto quando sfrecci sulla tua moto provi un brivido molto grande ma vorrei sapere nella tua vita qual è stato il brivido più grande che hai incrociato? adesso dirò una cosa che sembrerà patetica detta Natale poi però la nascita di mia figlia sicuramente e sicuramente direi per chi non lo è tra l'altro Luca a breve anche lui sarà papà vero Luca? esatto esatto io ho quattro settimane quindi insomma non sai che è bello non sai cosa ti aspetta è un mondo fantastico senti Rolando ma se io ti dico la parola velocità a cosa pensi? quando io in realtà devo dire all'epoca ero anche abbastanza delinquente ora un po' meno però velocità per me significa la seconda passione della mia esistenza come dicevi prima sono la macchina le macchine, le moto io corro anche in pista mi diverto tra l'altro vado cioè riesco a fare anche bei tempi sì 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 è una passione che ho maledetta da sempre io a 13 anni rubavo la macchina a mio padre e me l'andavo per le strade di montagna innevate a correre come un cretino da solo da solo ecco questo controllo totale che tu hai appunto hai sempre esercitato nella vita di tutti i giorni riesci a averlo cioè tu l'hai fatto in pantani ovviamente controllavi questo modulare la velocità scegliere quando frenare quando accelerare riesci a farlo nella vita c'è una volta che hai detto mannaggia dovevo fermarmi prima nella vita reale non solo c'è anche un dato la metafora proprio nel no ma poi sinceramente il potersi pentire di non aver frenato un attimo prima nella vita è una cosa che va glorificata cioè sbagliare che fino a un po' di tempo fa invece mi faceva tanta paura adesso no è una cosa che quasi ricerco va a capire perché lo capirò tra un po' però l'errore mi piace le deviazioni ti sfacciono senti Rolando tu caratterialmente sei un ragazzo abbastanza riservato un po' solitario ma anche io sono molto determinato di solito le tue scelte sono state condivise dai tuoi genitori grazie a tutti i tuoi genitori